Sì, mi sento pronto e spero sicuramente di dare il mio contributo. Credo ci sia poco da parlare e tanto da lavorare. Cosa pensi di poter dare alla nuova Roma di Spalletti? Io sono sicuramente molto carico, molto motivato e entusiasta, quindi spero di dare il mio contributo, anche perché è un momento delicato, quindi spero di far bene. Grazie, fateci camminare per gentilezza.